chi mi chiede mi chiede ragazzi siamo tornati finalmente all'estonia un freddo becco giusto in tempo per prenderci la crue di bonnet di allora stilvi bellissima si prezzi equipaggiamo silvi il draghetto molto carino molto carino belli 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 i double piccons veramente belli la cultura niente male vabbè basta il passivo già e mille bubacconi che sempre schifo non fanno allora allora andiamo in locker mettiamo copertura per tutto ovviamente e ragazzi vediamo se mi ricordo di gioco un pacco gigantesco vediamo come di giochi ragazzi fa tempo commentino così mi piace codice creatore bricks into the negoz fate come ho fatto io non dimenticatevi tanto la più me la era già attivata due giorni fa quindi non abbiamo preso credo e niente no va bene lo stesso epic fail for the bricks e ragazzi come al solito copia addosso e ci vediamo di te mette in discesa ragazzi la skin è veramente bella ma è proprio bella 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 skin è un po ricombrante pensavo fosse più piccolina però è proprio carina carina bella sì allora ci saranno un botto di questo da fare questi qua sono altri qua sono le cose va bene mi insiso va bene weekly e poi poi di search outbound chest deploy garden shield vabbè 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 i diretti ci buttiamo nel mio ma l'ho cambiato dragon ball gara che c'era e più mi ragazzi è tornato bravo molto format dovresti uscito piccolo e gohan e non ho visto male qui ragazzi il concerto e briggs utilizzate taggatemi su instagram ma è fatemi sto pevo allora andiamo poi tutto bucci qua sotto e ci prendiamo le cazze special vediamo se ce n'è una qua vedete allora dimmi che c'è parte l'ho subito 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 senza colpo ferire bello va bene non mi ricordo più come si gioca comabile era ammazzata ma quando non c'erano ma ma non questo ma insomma ecco lì insomma prendici queste due dice un assalto blu visto se ok ok andiamo a vedere il tipello dov'è che è qua perché il parto insomma è ormai qua io vi spacco la faccia la prossima volta ricordati di usare le cure migliori grazie mille fuori io di servizio e andiamo prima che impatta abbastanza facile per l'ottima del tipo non era nulla di che e prendiamoci sta biglone e facciamoci la super big comunque non so ragazzi mi sembra più 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 grosso magari sono io che vedo male vabbè allora vediamo un po' uuuh il chug gimme gimme allora questo qua buttiamo perché nessuno me la può rubare e andiamo col chuglone non so ragazzi mi sembra più mi sembra più grosso ah non mi ha fatto insomma un po' reddo ragazzi non mi entrare a mezzo poi non mi entrare a mezzo hit vabbè 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 vabb non capisco se la skin magari ho messo delle impostazioni sbagliate non lo so, vuoi che dico eh, non lo so, però a me che baschi è il più grande non lo so, vuoi che dico? uhuuu, distrutto! destroyed qua c'è distrutto non vedete, è un peccato non vedere magari tu non mi fai perciò ma la mia ragazza ma cosa c'ho oggi? cosa c'ho oggi? sono... ho una mia amica male oggi eh ma io direi che quasi quasi penso che abbiamo tempo vado a prendermi il martellozzo o forse no eh magari... magari il martello quello ha detto eh è un bello ascolto blu è che sommace allora dicevamo posso andare a prendere il martello forse ragazzi sono... o è perché è un gioco da tanto che mi mettono soltanto nabetti e che è molto molto probabile che dopo sia quello che è un attivo opposto che ho utilizzato un fenomeno guataci guatamo i cinderu uol uol palle Eeeh! Poi ma lì non è? A burro! O che ho disperato povero buco oh yeah thank you so much my friend ok va beh questo invece era un po' calcio ragazzi va beh Dai Ah zio Dai però non è possibile che scappi eh Nooo ma sparate il colpo non mi ha sparato il colpo Vabbè ragazzi questo è il torno al Briggs post vacanzine noi ci vedremo di nuovo sempre sul canale con nuovi videozzi Io spero che vi sia piaciuto il video è trovato a... ragazzi ma quando faccio tornare? Fate per sapere nei commenti e come al solito addio e grazie su quanto il pesce Ciao 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 Ciao